radio luna è la seconda parte dell'appuntamento odierno dunque su radio luna con cias papa di la c'è marco pece con noi ci sono gli avana moon c'è paolo giarrusso domenico manzo luigi manzo e giampiero battista quante volte hai dovuto specificare che ti chiami giampiero non giampiero sempre sempre però non ci tengo ormai va bene comunque per forza poi se me lo chiedono specifico che riprendi fiato riposati paolo il batteri paolo tutti voi dovete ovviamente suonare provare fare tutto no ma un batterista che è sempre quello più dietro magari a volte in alto magari a volte defilato insomma non è sempre sul proscenio non è mai in avanti no ci sono alcuni batteristi che cantano pure dico quello degli eagles perché erano i miei preferiti don henley vabbè ma perché li conosco io ma ci sono tanti phil collins che suonano e cantano hai mai provato a cantare ho provato ma è una cosa che va oltre le mie capacità quindi però adesso poi loro cantano tutti benissimo quindi mi scusate raga ma sicuro che è il vostro batterista sì sì l'abbiamo trovato qua davanti dicevo c'è proprio la faccia da batterista l'avete raccolto qua davanti perché non lo so sicuro che fai il suonio alla batteria sei certo di questa cosa accennaci accennaci qualcosa porta un po il tempo ce l'ha il physique ce l'ha va qui non si sa preciso no no è stato super preciso allora ragazzi parliamo degli amanamun voi siete un gruppo di amici fondamentale prima di tutto voglio dire per suonare tutti insieme ci vuole una oltre che un affiatamento artistico ci vuole proprio un affiatamento che va al di là no del suonare soltanto quindi cene birre l'unica cosa condividete sono le ragazze presumo perché credo che sia da quel livello non ancora dovete conoscervi bene perché poi suonare sul palco forse è meglio che lo spiegate voi a chi ci sta ascoltando a volte c'è bisogno di uno sguardo d'intesa per raddrizzare una cosa per fare qualcosa o per creare una cosa all'improvviso è così o no chi lo dice sì è così allora noi intanto qui c'è un gruppo di fratelli amici amici fraterni quindi l'alchimia si crea soprattutto a livello umano ma a livello musicale abbiamo sempre avuto un grande feeling un po dalle nostre passate esperienze musicali un po perché ci piace lo stesso genere musicale quindi diciamo partiamo molto avvantaggiati però sì sono d'accordo questa cosa sul palco è fondamentale perché insomma se non si crea quel sound di gruppo poi non la cosa non funziona insomma poi non arriva al punto non arriva se non siete tra di voi prima di tutto complici credo che assolutamente c'è lo spogliatoio no come per usare un gergo calcistico divertirsi e far divertire diciamo che quello potrebbe essere un bel motto per una band no ma io in effetti penso che tu abbia ragione giampiero perché in effetti allora domenico ma tu sei il bassista no ci sono stati dei bassisti incredibili nel mondo no ma tu hai avuto qualcuno di riferimento oppure hai amato una band nel suo totale sì allora mio bassista preferito di giselle badler è il bassista dei black sabbath per la miseria mi piace team come for the rage against machine però fondamentale sì vado sul duro però con gli avanamone diciamo che le influenze no non più di tanto poi con gli avanamone però diciamo che i bassisti duri mi sono sempre sempre piaciuti poi c'è paul mccartney che mi ha sempre dato no assolutamente quindi mi ha dato la via più melodica del di quello che può che può fare un basso giampiero sono usciti beatles tempo fa con un singolo dopo anni 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 un tuo commento a questa cosa veloce bellissimo perché della tape for paul cioè quella demo che john lennon precisamente yokohono consegnò a paul mccartney tre dei brani ricordiamo tutti free as a bird bellissima poi real love e queste due erano state sviluppate e finite invece rimase solo now and then che è bellissima ora meno più delle altre però è bellissima un regalo fantastico alla musica io voglio tornare da paolo il batterista che non si sa se non si sa se sei tu o no vabbè comunque insomma come i ghost writer per gli scrittori sei il ghost drummer senti ma è invece un tuo musicista di riferimento quale è stato di batteristi o musicisti in genere tu che strumento suoni io la batterio sicuro siamo certi che sei il batterista parliamo di batteristi sicuramente steve gadd è il primo che mi viene in mente chissà perché pure a me però vabbè ti piace eh beh insomma giunto poi vabbè ovviamente tutti combam no si però più batteristi di band citiamo batteristi di band kate moon batteristi di band ovviamente john bonham che era il mio idolo quando avevo 15 anni chi era? john bonham eh beh insomma vabbè diciamo che io avrei detto bill word sentendolo suonare essendo il suo cantante così però non so anche io eh anche però non ho chiesto a chitarrista eh allora ce l'hai una mezz'oretta di tempo così ti dole 30 secondi allora quanti te ne devo dire il primo il primo no uno non si può dire almeno tre te ne dico mai te dico jimmy page kit richards e tony aiomi bam ok a posto ma potrei continuare no 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 va bene non esageriamo è che poi il poverino io da quando l'ho conosciuto l'ho ritenuto sempre il mio jimmy però jimmy hendrix o jimmy page a voi la scelta in ogni caso è un jimmy lui è un jimmy è un jimmy lui è un jimmy allora ragazzi vabbè insomma c'è sempre tempo per riparlare di voi per tutte le novità che avete in serbo eh quando cambiate batterista ce lo fate sapere insomma tutto quello che accade appena aperte le audizioni chi vuole può presentarsi chiamare al trade allora salutiamo e ringraziamo per lo scherzo paolo giaruso alla batteria ciao paolo ciao domenico manzo al basso grazie chiasi grazie a tutti ciao luigi manzo alla chitarra e alla voce ciao grazie a tutti e salutiamo il nostro anzianotto ciao amico mio Gian Piero si è intorno a sederti grazie per essere stati con noi davvero in bocca al lupo per tutto va bene vi aspettiamo con tante novità quando ne avrete grazie ci vediamo presto con la chitarra ciao ragazzi